buongiorno amici e benvenuti in un nuovo video di questo canale dunque oggi sarà un video flash velocissimo mi avete scritto e mi avete chiesto me l'avete chiesto più di uno un paio di persone per l'esattezza mi avete chiesto come sospendere gli aggiornamenti di windows perché alcuni non sanno dove andare gli danno noia gli aggiornamenti magari sono delle macchine che gli aggiornamenti rallenterebbero ecco insomma e quindi questo è un po' una piccola guida per farvi vedere come sospenderli definitivamente allora per sospendere gli aggiornamenti gli aggiornamenti si possono sospendere in tanti modi allora un primo modo per sospendere gli aggiornamenti è quello di andare sempre su start aprire start vedete scrivere servizi eccolo qua quindi andare nei servizi aprire i servizi e andare un attimino che come vi ho sempre detto queste sono macchine virtuali mi pare di averne aperte sono aperte più di una e quindi ci mettono un po di tempo in tutti questi servizi che vedete va bene voi andate a cercare qui dentro dovrebbe essere in fondo dunque servizio diagnostica aspettate gestione sensore trasferimento mi viene in mente anche mi viene in mente eccolo qua mi veniva in mente questo è windows update questo è servizio dice consente il rilevamento il download dell'installazione aggiornamenti per windows e altri programmi se il servizio è disattivato gli utenti del computer non saranno in grado di utilizzare windows update e l'arrivativa funzionalità di aggiornamento automatico ora se voi disattivate questo servizio qui automaticamente eccolo qui si va su proprietà anzi andiamo su proprietà facciamolo vedere adesso è su un manuale però voi potete attualmente voi non interrompete questo servizio lo fermate e poi lo mettete su disabilitato cioè lo mettete in questo modo e fate applica quindi mettendolo in questo modo lui non farà più il download degli degli aggiornamenti però ecco questo metodo io francamente se proprio volete farlo fatelo però non mi piace tantissimo ecco diciamo preferisco più quest'altro che vi faccio vedere quindi chiudiamo i servizi quindi questo l'abbiamo capito e andiamo a questo punto ritorniamo qui sotto e scriviamo update jack basta up già dice impostazioni di windows update eccolo qua quindi apriamo impostazioni di windows update e andiamo eccolo qui e andiamo su eccolo qui lui adesso qui mi fa vedere tutti gli aggiornamenti che questa macchina avrebbe la necessità di fare ma come vi ho detto queste sono macchine dove installo disinstallo faccio i miei test monto video poi quando la macchina un po è arrivata la frutta la butto e ne li faccio un'altra generalmente lavoro così altrimenti dovrei formattare la mia macchina un centinaio di volte quindi butterei tutto e quindi qui dovrei fare questi aggiornamenti che io non faccio però ragazzi attenzione vabbè poi vi dico una cosa in particolare sugli aggiornamenti se scendete e andate su opzioni avanzate eccolo qui nelle opzioni avanzate voi avete questo sospendi aggiornamenti sospendi temporaneamente installazione degli aggiornamenti su questo dispositivo per un massimo di 35 giorni quando viene raggiunto il limite di sospensione nel dispositivo non avessi installati aggiornamenti prima di poterli sospendere di nuovo ora io francamente forse questo è la scelta più giusta e vi spiego anche perché vedete io posso scendere arrivo fino a sabato 2 luglio questi sono i miei 35 giorni e mattendo così mettendo questo automaticamente lui mi sospende i miei aggiornamenti però ragazzi gli aggiornamenti vanno comunque fatti perché se escono delle vulnerabilità escono delle problematiche esce qualcosa che mette il vostro pc a repentaglio di essere magari preso da malintenzionati eccetera non potete non farli aggiornamenti vanno comunque fatti quindi io vi ho fatto vedere questo sistema e vi ho fatto vedere anche l'altro però se questa per me fosse una macchina in produzione come vi ho fatto vedere prima tutti questi aggiornamenti così non ce li avrei nelle mie macchine in produzione che ho io gli aggiornamenti li vado a fare magari poi stallo dei programmi come vi ho fatto già vedere precedentemente che eventualmente mi permettono anche di cancellare quell'aggiornamento e di fare un passino indietro e di tornare indietro quindi ci sono c'è anche questo tipo di possibilità ma ragazzi disabilitare completamente gli aggiornamenti del tutto francamente io non sono molto d'accordo però giustamente vi rispondo mi avete fatto delle domande trovo giusto darvi una risposta se il video vi è piaciuto come al solito lasciate un bel like oggi video veloce registratevi al canale fa sempre piacere anzi fa molto piacere spuntate la campanellina ragazzi e noi ci vediamo al nostro prossimo video grazie a tutti